buongiorno a tutti oggi vogliamo darvi un consiglio del giorno e quando voi aprite un barattolo e già il video per l'apertura l'abbiamo pubblicato se volete ve lo rimettiamo vedete il colore com'è? dovete mescolarlo bene 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 perché appunto essendo un colore molto gessoso potrebbe fare la posa quindi mescolate bene 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 mescolate finché il duro che sta sotto non va via ok? miglior cosa sarebbe se prendiamo l'apri barattolo e facciamo aspettate un attimo eccoci questo lo mettiamo qui e con l'apri barattolo fate questo lavoro qui pulite bene intorno e avete mai fatto la frittata quando sbattete le uova? ecco così guardate adesso questo è anche bello pieno quindi mescolate 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 come se non ci fosse un domani allora quindi il consiglio del giorno è mescolate bene la vernice quando avete aperto il vostro barattolo mescolate bene bene la vernice è molto importante questo passaggio ok e per oggi è tutto ciao buona giornata buona giornata